A chi consigli questa tecnica? Dopo quanto tempo di pratica si può dire che si ottengono dei miglioramenti effettivi? Io consiglio a chiunque di respirare, quando mi vengono fatte richieste per bambini, per ragazzi di 12-13, per minori, io chiedo ovviamente l'autorizzazione dei genitori perché è ovvio che sia così. Però io ho una bambina che adesso ha 14 anni, però è da quando ne ha 8-9 che quando lei lo desidera, io non la spingo, viene, respira magari 10 minuti, un quarto d'ora nel gruppo, poi disegna, fa altre cose. Non esiste un'età, io consiglio veramente a tutti di riscoprire in maniera consapevole il proprio respiro, anche stando semplicemente seduti sul divano di casa, chiudendo gli occhi e ascoltando il respiro che si muove nel corpo. Poi se uno vuole saperne di più fa un corso, magari con noi o con qualche altra organizzazione e impara qualcosa di più del respiro. È proprio utile per tutti comprendere che il respiro ci mette in contatto con me stesso, quindi è questo lo scopo principale. Io penso che sia una cosa bella per chiunque. Cosa accade in una sessione e quando si vedono i risultati? Beh, io ho un'esperienza piuttosto ampia, non mi sono messo a fare dei conti, ma credo di aver dato più di 6-700 sessioni individuali, oltre a quelle di gruppo. Ci sono situazioni in cui la persona in una sessione fa quello che qualcuno chiama il salto quantico, che è un'espressione molto misterica. Cioè un salto significativo verso una più profonda comprensione di sé, perché è già lì, è già pronto, la sessione di respiro diventa semplicemente il pretesto attraverso il quale la persona finalmente acchiappa questa nuova consapevolezza. Per altre persone è necessario un percorso di più sessioni, dove si possa lentamente andare a ritrovare questi nodi o questi temi che non sono ancora integrati, guardarli con calma e con facilità e aprirsi ad accoglierli sostanzialmente. Questo mi offre spunto per dire una cosa fondamentale, una delle cose per noi molto importanti in respiro consapevole è il libero arbitrio. Dio ci ha dato il libero arbitrio e ce lo teniamo, che ci piaccia o no c'è. Cosa vuol dire il libero arbitrio? È una robina piuttosto complessa. Il libero arbitrio è fatto sostanzialmente da due belle cose che arrivano proprio sposate, proprio come le due facce di una stessa moneta. Da una parte c'è la libertà, che tutti anelano avere, faccio quello che voglio. L'altra faccia della medaglia è invece la responsabilità. Se io faccio ciò che voglio sono anche responsabile delle mie scelte, ma se la giriamo diventa molto più interessante. Se io accolgo e accetto la responsabilità della mia vita, con essa guadagno anche la libertà di cambiarla così come io desidero. E questo è uno dei punti per noi importanti. Questa libertà è fondamentale. Mi piace sempre ricordare che nell'ordinamento dell'universo l'uomo è in una posizione un po' particolare. Perché sopra di esso, sopra l'uomo, troviamo gli ordinamenti angelici, gli esseri spirituali, coloro che sono nella piena visione della verità delle cose. Quindi non hanno merito e non fanno fatica. Perché è ovvio qual è la cosa giusta. Al di sotto dell'uomo troviamo invece tutti i regni animale, vegetale e minerale, laddove non esiste, fra virgolette, la libertà, cioè il libero arbitrio. Esiste l'istinto. Per cui seguono in maniera assolutamente serena il flusso naturale delle cose. E nessun gatto, cane o tigre si mette a discutere se è giusto o non giusto che il cane mangia il gatto, che la tigre mangia il cane. Così è e così va bene. In mezzo c'è l'uomo che ha il libero arbitrio, cioè è chiamato a scegliere, a decidere che cosa vuole scegliere, ma non ha la chiara visione degli esseri spirituali. Quindi è una situazione del tutto particolare. Ebbene è per questo motivo che l'uomo è il centro dell'universo. Che è attraverso l'uomo che l'intera creazione troverà il riscatto. Perché è questa scelta cercata, voluta, ogni giorno, ogni momento, ogni singola azione, che ci porta a trovare la pienezza del nostro essere spirituale, senza averla tout court disponibile per diritto di nascita. C'è, ma va cercata, trovata e manifestata. Quando questa viene trovata e manifestata, questa pienezza spirituale, ha una potenza e un valore che non ha uguali nell'universo. Questo è il senso di ogni esperienza mistica e questo è ciò che offre il respiro, se fatto in un certo modo. Quindi grazie per questa domanda. Grazie a te per essere stato con noi. E non solo Anima vi dà appuntamento alla prossima intervista.